Salve, mi chiamo John. Lavoro in uno degli Apple Retail Store e vi guiderò in un tour di MacBook Air, il notebook più sottile al mondo. Con MacBook Air non solo abbiamo creato un portatile incredibilmente sottile. Abbiamo incluso una tastiera retroilluminata di dimensioni regolari ed uno schermo widescreen da 13,3 pollici, in un case che pesa solo 1,36 kg. Il punto più sottile misura 0,4 cm. L'altezza massima è di soli 1,94 cm. È realizzato in solido alluminio e potrete portarlo sempre con voi. MacBook Air include Mac OS X Leopard e iLife 08 ed è ottimizzato per il mondo wireless come solo Apple sa fare. Include come standard le più recenti tecnologie 802.11n e Bluetooth. Ora vorrei mostrarvi nel dettaglio MacBook Air e alcune delle sue innovative funzionalità. I due principali compromessi che i produttori accettano per realizzare portatili compatti sono tastiera e schermo. Noi no. Quando aprite MacBook Air vedrete un bellissimo schermo widescreen da 13,3 pollici che si attiva all'istante alla massima luminosità non appena lo sollevate. Questo avviene grazie a LED per la retroilluminazione che offrono immagini cristalline consumando meno energia. Se si tratti di mostrare una presentazione di keynote o guardare un film tutto apparirà spettacolare. A differenza dei normali ultraportatili con piccole e scomode tastiere, MacBook Air ha una tastiera di dimensioni regolari per il massimo comfort ed è retroilluminata. Proprio come MacBook Pro, quando rileva un calo della luce ambientale la tastiera si illumina automaticamente. Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora in aereo o si prendono appunti in una sala poco illuminata. Ora diamo uno sguardo al trackpad. Non solo è più grande, ma presenta anche le innovazioni multi-touch sviluppate per iPhone e adattate appositamente per MacBook Air. Probabilmente conoscete i gesti per il trackpad su MacBook e MacBook Pro, come premere con due dita per un clic secondario lo scorrimento a due dita. MacBook Air vi consente ora di pizzicare, strisciare e ruotare per navigare tra le applicazioni con più efficacia. Vediamole insieme. Potete pizzicare per ingrandire e rimpicciolire. Funziona in cover flow nel Finder. Posizionate due dita sul trackpad, meglio se il pollice e l'indice, e trascinatele verso l'esterno sempre a contatto con il trackpad. Con questo gesto potete facilmente passare da una vista a icone più grandi a una vista a testo. Funziona anche con Safari. Se trovate una pagina con del testo in piccolo, pizzicate e il font avrà dimensioni leggibili. Per andare avanti e indietro tra le pagine web, senza premere gli appositi pulsanti, potete utilizzare il gesto strisciata. Utilizzate tre dita insieme. Strisciatele da sinistra a destra per avanzare e da destra a sinistra per arretrare. Questi gesti funzionano anche in iPhoto. Potete pizzicare per ingrandire una foto o strisciare per avanzare in uno slideshow. Utilizzate poi un altro gesto per ruotare le foto. Selezionate la foto, posizionate due dita sul trackpad e ruotatele. Facile! Queste sono alcune delle tante cose che potrete fare con gesti e trackpad. Le preferenze di sistema di MacBook Air offrono demo su come utilizzarli. Il connettore MagSafe si trova sulla sinistra di MacBook Air. Sulla destra tutte le porte sono nascoste da un piccolo sportello. Apritelo e troverete un jack per cuffie, una porta USB e una nuova porta micro DVI che non solo supporta DVI, ma anche VGA, composito ed S-video. Così potrete facilmente collegare proiettori e monitor esterni. Sopra lo schermo troviamo la webcam EyeSight integrata ed un microfono, che potrete utilizzare per le videoconferenze o per divertirvi con Photobooth. La luce verde sulla destra della webcam indica che è in uso. MacBook Air include un processore Intel Core 2 Duo, 2 GB di memoria ed un disco da 80 GB, oppure un disco a stato solido da 64 GB opzionale. Ciò che non troverete su MacBook Air è l'unità ottica. Infatti, grazie alle potenti capacità wireless integrate, molti di voi non ne avranno bisogno. Se invece necessitate di un'unità ottica, abbiamo creato MacBook Air Super Drive. È alimentata tramite la porta USB su MacBook Air, così non dovete trasportare un altro alimentatore. Ma MacBook Air è stato pensato per il wireless. Anziché importare CD, potete eseguire il download wireless di musica da iTunes Store. Anziché eseguire il backup su una pila di dischi, potete eseguirlo wireless su Time Capsule. Con MacBook Air potete persino accedere senza cavi all'unità ottica di un altro Mac o PC per installare applicazioni. Ne riparleremo tra un minuto. Con MacBook Air potete davvero vivere senza cavi. Tutto inizia dal momento in cui aprite il vostro MacBook Air, con un assistente alla migrazione wireless che vi consente di trasferire documenti, applicazioni e preferenze dal vecchio Mac al MacBook Air su una rete wireless. Al primo avvio, Impostazione assistita vi chiederà se trasferire le vostre informazioni. E se dovete installare software da un CD o DVD su MacBook Air? Abbiamo creato un'innovativa funzione chiamata Remote Disk. Vi consente di accedere senza cavi a un'unità ottica su un altro computer per installare applicazioni su MacBook Air. Funziona sia su Mac che su PC. Per configurare Remote Disk, eseguite un semplice installer sul Mac o PC con l'unità da condividere. L'installer si trova sul DVD di installazione di Mac OS X, incluso in MacBook Air. Nella stanza accanto ho già configurato un PC per Remote Disk. Ora vi mostrerò come funziona. Qui ho una copia di Microsoft Office per Mac che voglio installare su MacBook Air. Inserisco il disco nel PC. Ora guardo nel Finder su MacBook Air e sotto dispositivi trovo un'icona Remote Disk. La seleziono e nella colonna successiva vedo i dischi remoti disponibili per la condivisione. Ecco il PC Windows che ho abilitato. Lo seleziono ed ecco il disco di installazione di Office che ho inserito poco fa. Ora eseguo l'installazione come se avessi un'unità ottica integrata. Faccio doppio clic per aprire e in pochi minuti il software verrà installato su MacBook Air, senza cavi, utilizzando l'unità ottica del PC. Utilizzare Remote Disk con MacBook Air è facilissimo. Potete utilizzarlo per installare una nuova versione di Mac OS X o reinstallare il software incluso in MacBook Air. Per altri dettagli visitate apple.com. Era MacBook Air, il portatile più sottile del mondo. MacBook Air è disponibile presso Apple Online Store e i rivenditori autorizzati Apple. Grazie. 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 Gruzie a tutti.